Buonasera a tutti, ci incontriamo questa sera ancora una volta in modo virtuale per continuare il nostro percorso, il nostro cammino aiutati e sostenuti e accompagnati dal Libro dei Salmi che in questi mesi ci sta facendo comprendere tante cose sul Signore. Come abbiamo visto negli incontri precedenti il Libro dei Salmi è una parola di liberazione, un cammino di liberazione e di guarigione che il Signore ci fa fare attraverso la preghiera. Perché proprio attraverso la preghiera? Perché la preghiera è quel canale di comunicazione che noi abbiamo con Dio. Dio nella scrittura è un Dio che si è rivelato, un Dio che si è fatto conoscere, un Dio che ci ha voluto incontrare, un Dio che è voluto entrare in relazione con noi, un Dio che ha voluto camminare al nostro fianco, un Dio che ha voluto stare dalla nostra parte, un Dio che nonostante i nostri peccati, nonostante le nostre mancanze, nonostante la nostra povertà, nonostante le nostre contraddizioni, nonostante la nostra indifferenza, il nostro volgergli le spalle non si è mai arreso con noi, ma anzi ha insistito ad aprire una porta di salvezza davanti a noi fino a venire lui stesso in mezzo a noi attraverso suo figlio Gesù Cristo. È una cosa molto bella del Libro dei Salmi è che ci sono molte, diciamo, molti orizzonti di lettura, di interpretazione del Libro dei Salmi e uno di questi orizzonti, una di queste chiavi di lettura, di interpretazione del Libro dei Salmi, è proprio quella relativa alla persona del Signore Gesù Cristo. C'è una tradizione, diciamo, nella Chiesa Antica dove ogni Salmo veniva riferito ad un evento della vita di Gesù. Anche Gesù stesso, quando parla con i discepoli di Emmaus, San Luca annota che Gesù, iniziando dalla legge, dai profetti e dai salmi, spiega ai discepoli di Emmaus tutto quello che si riferiva a lui nelle scritture. E allora questa sera ancora faremo un passo in avanti alla scoperta di questo gioiello della Sacra Scrittura, di questo gioiello che ci può aiutare a fare un cammino serio di conoscenza del Signore, perché la spiritualità dei Salmi è la spiritualità della Bibbia, la spiritualità dei Salmi è la spiritualità dei Santi, la spiritualità dei Salmi è la spiritualità che dovrebbe stare nel cuore di ogni credente, perché è quella parola che ci insegna a pregare, rivolgendo il nostro cuore a Dio, così come Dio stesso ci ha indicato, così come Dio stesso ci ha insegnato. Per questo il libro dei Salmi viene chiamato, viene definito il libro di preghiera della Sacra Scrittura. E negli incontri precedenti abbiamo visto come il libro dei Salmi è diviso in cinque libri, in cinque sezioni. Abbiamo iniziato con il primo libro, dove abbiamo letto e meditato il primo Salmo, che è il Salmo della Scelta, felicità dell'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. Poi abbiamo visto il secondo libro, che è il libro della nostalgia, il libro del desiderio, quel Salmo, il Salmo iniziale del secondo libro, il Salmo 42, è quel Salmo dove c'è l'immagine bellissima della cerva che anela ai corsi d'acqua, immagine dell'anima che desidera Dio. Poi siamo entrati nel mistero del terzo libro dei Salmi, che è il libro che affronta i dubbi, che affronta le paure, le domande che ci sono nel cuore di ciascuno di noi e che trova la risposta di queste paure, di questi dubbi, di queste domande nel proprio rapporto con il Signore. Poi siamo entrati nel quarto libro dei Salmi, attraverso il Salmo 90, che è quel Salmo che ci parlava della teshuva, della conversione del cuore, ed è un Salmo molto adatto in questo tempo di quaresima che stiamo vivendo e soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo, che è un momento che richiede veramente la conversione del cuore di tutti, perché tutti abbiamo bisogno di ritornare a Dio, tutti abbiamo bisogno di rivolgere il nostro cuore a Lui, tutti abbiamo bisogno di convertirci, di abbandonare le nostre mentalità sbagliate per entrare nelle mentalità di Dio e le mentalità di Dio sono l'amore, perché Dio questo ci ha insegnato, ci diceva, come abbiamo ascoltato la volta passata, che la chiave di interpretazione di tutta la scrittura e imparare ad amare. Ce lo diceva Sant'Agostino quando abbiamo visto le regole per interpretare le scritture. Ecco, questa sera entriamo nel quinto libro dei Salmi e lo faremo non attraverso un Salmo intero, perché il Salmo che ho scelto per aiutarci a meditare in questo quinto, ad entrare in questo quinto libro dei Salmi è un Salmo troppo lungo da poter fare tutto in una volta, è il Salmo più lungo di tutti, è il Salmo 119, che è un Salmo che ha come centralità la forza e la potenza della parola di Dio. Però prima di entrare nel quinto libro dei Salmi e di lasciarci condurre dal Salmo 119, ci mettiamo alla presenza del Signore, chiediamo la grazia e il dono dello Spirito Santo affinché non sia io a guidare voi, ma sia lo Spirito Santo a parlare al mio e al vostro cuore, a parlare al cuore di ciascuno di noi, perché l'unico interprete, l'interprete più importante, l'interprete vero delle scritture è lo Spirito Santo. Allora ci mettiamo alla presenza del Signore chiedendo il dono dello Spirito Santo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Noi ti benediciamo Padre nostro e Rere nostro per la fede e per l'amore che ci hai dato nel nome di Gesù tuo Figlio. Noi ti rendiamo grazie perché nel nome di Gesù ci hai dato ogni grazia, ogni dono, ogni benedizione e nel nome di Gesù ci hai chiamato alla gloria, alla lode, all'amore. E allora Padre Santo nel nome di Gesù ti chiediamo il dono del tuo Spirito. Gesù nel Vangelo ha detto qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, il Padre ve la concederà. E ha detto ancora cercate il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in sopravanzo. E il regno di Dio e la sua giustizia e lo Spirito Santo. Allora Padre nostro e Rere nostro nel nome di Gesù apri il nostro cuore alla voce dello Spirito Santo. Fa che ascoltiamo oggi la sua voce e non induriamo il nostro cuore. Fa che il nostro cuore si apra alla sua luce. Fa che il nostro cuore si apra alla forza del suo amore. Apri la nostra mente perché possiamo comprendere le parole della scrittura. Apri le nostre orecchie perché possiamo ascoltarle e accoglierle in noi. Apri le nostre mani affinché possiamo metterle in pratica e viverle ogni giorno della nostra vita. Non come parole morte che appartengono ad un lontano passato ma come parole vive, come parole vere, come parole che vogliono farsi carne in noi. Tutto questo e molto altro ancora te lo chiediamo nel nome di Gesù che è sopra ogni cosa. Dio benedetto nei secoli. Amen. Allora come dicevamo prima il salmo che ci aiuterà questa sera è il salmo 119. Il salmo 119 appunto è il salmo più lungo dei 150 salmi. È un salmo che è fatto come potete vedere nel foglietto che riceverete sono 176 versetti. Non vi spaventate perché non lo faremo tutto questa sera. Faremo soltanto l'ultima strofa di questo salmo. Questo salmo ha una struttura molto particolare perché praticamente è diviso in 22 strofe di otto versi ciascuna e ogni strofa, ogni verso di questa strofa inizia con una lettera dell'alfabeto ebraico. In sequenza le prime otto strofe iniziano con la prima lettera dell'alfabeto ebraico che è l'Alef. La seconda, cioè i primi otto versi, la prima strofa di otto versi. La seconda strofa di otto versi ogni verso inizia con la seconda lettera dell'alfabeto ebraico Bet. La terza strofa di otto versi ogni verso inizia con la terza lettera dell'alfabeto ebraico Dalet. Così via di seguito fino alla ventiduesima lettera dell'alfabeto ebraico che è la lettera Tau e gli ultimi otto versi che formano l'ultima strofa di questo salmo 119 ogni verso inizia appunto con la lettera Tau che è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. Ogni verso di questo salmo ha come centro la parola di Dio, cioè è un salmo che loda la parola di Dio, che loda la rivelazione di Dio, che loda la Torah, la legge, i comandamenti, le promesse che il Signore ci ha lasciato nelle scritture. In questo salmo la parola di Dio viene cantata, lodata e glorificata in tutti i suoi versi, viene contemplata secondo tutte le sue sfaccettature. Ogni strofa di questo salmo, ogni verso di questo salmo ha un sinonimo che indica la parola di Dio, legge, comandamento, testimonianza, promessa eccetera eccetera. Un sinonimo che indica il dono della parola di Dio e il dono meraviglioso che Dio ci ha fatto attraverso la sua parola. L'ultima strofa che è quella che ci accompagnerà questa sera adesso la leggiamo e poi dopo cercheremo di comprenderla e cercheremo di capire questa sera attraverso quest'ultima strofa il passo ulteriore che noi siamo chiamati a fare in questo cammino di liberazione e di guarigione che stiamo vivendo grazie al libro dei salmi. Dice così giunga il mio grido davanti a te signore, fammi comprendere secondo la tua parola, venga davanti a te la mia supplica, liberami secondo la tua promessa, sgorghi dalle mie labbra la tua lode perché mi insegni i tuoi decreti. La mia lingua canti la tua promessa perché tutti i tuoi comandi sono giustizia. Mi venga in aiuto la tua mano perché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza signore e la tua legge è la mia delizia che io possa vivere e darti lode. Mi aiutino i tuoi giudizi. Mi sono perso come pecora smarrita. Cerca il tuo servo. Non ho dimenticato i tuoi comandi. Allora come avete potuto vedere ogni verso lota la parola di Dio. La parola di Dio viene chiamata parola, promessa, decreti, giustizia, precetti, legge, giudizi, comandi. Sono tutti sinonimi che indicano la parola di Dio secondo le sue molteplici sfaccettature, i suoi molteplici significati. Questo salmo, il salmo 119, è nel centro del quinto libro dei salmi. Fino adesso abbiamo visto le porte di ognuno di questi cinque libri dei salmi, cioè il primo salmo. Questa volta però ho deciso di prendere il salmo centrale perché questo salmo ci offre molte opportunità. Il quinto libro dei salmi noi lo possiamo chiamare il libro della lode oppure della gloria perché nel percorso che si svolge attraverso i cinque libri dei salmi, il quinto libro dei salmi giunge al suo vertice, giunge alla sua meta. Ci fa capire quella che è la chiamata ultima della vita e del cammino spirituale di ognuno di noi perché tutto quello che noi abbiamo fatto è per raggiungere la gloria. Ma che cos'è la gloria nella scrittura? Noi quando sentiamo la parola gloria immaginiamo lo splendore, la luce, la magnificenza di una realtà e nella scrittura la gloria è anche questo. Però nella scrittura la gloria ha un significato ben particolare. Noi potremmo ritradurre il concetto di gloria nel nostro linguaggio attuale con il concetto di peso specifico. Che cos'è il peso specifico? Il peso specifico di una materia non è tanto quanto quella materia pesa, ma è il peso legato alla sostanza di quella materia. indica il valore di una realtà. Nella Bibbia la gloria è il peso specifico di ognuno di noi. Quel peso specifico che si conserva in tutte le situazioni della nostra vita. E' quel valore che non dipende da quello che noi facciamo, da quello che noi decidiamo, ma che sta a monte di tutto il resto. Utilizzo un'immagine. Se io prendo un biglietto di 10 euro, tutto bello, perfetto, senza nemmeno una piegatura, senza nemmeno una macchia, pulito, lindo, in tutti i sensi, quel biglietto vale 10 euro. Se io prendo quei 10 euro e li getto a terra, ci cammino sopra, ci verso del caffè sopra, li stropiccio, li piego tutti quanti, li spiegazzo tutti quanti. Ecco, nonostante quel biglietto di 10 euro sia tutto rovinato, sporco, pieghettato, continua a valere 10 euro. Cioè, il valore di quel biglietto non dipende dalle condizioni di quel biglietto, ma è intrinseco a quel biglietto. In qualunque condizioni quel biglietto si trovi. Ecco, questa è la gloria che noi siamo chiamati a raggiungere e che il quinto libro dei Salmi ci mette davanti. È il nostro valore agli occhi di Dio, che va al di là della nostra condizione attuale. E che siamo chiamati a scoprire per prenderne possesso, per conquistarla, per farla nostra. I salmi del quinto libro dei Salmi ci portano verso la gloria, ci aprono gli occhi alla gloria. Per questo i temi fondamentali del quinto libro dei Salmi sono legati alla lode. Sì, ci sono pure preghiere di supplica, preghiere di richiesta di aiuto, però sono soprattutto salmi di lode. Sono salmi gioiosi, salmi che celebrano la realtà della salvezza, la realtà della redenzione, della liberazione che Dio ha operato con il suo popolo. Il primo salmo del quinto libro dei Salmi, il Salmo 107, per esempio, è un salmo che ripercorre immagini diverse di liberazione, immagini diverse di redenzione che Dio ha compiuto per il suo popolo. E tutto il quinto libro dei Salmi si muove su questa tematica della liberazione, della salvezza, della redenzione, che conduce alla gloria, che porta alla gloria. E respira questa atmosfera di lode, di gioia, di glorificazione di Dio e di rendimento di grazia per quello che Dio ha operato nella vita del suo popolo, di quello che Dio ha operato nella vita di ciascuno di noi. Nel quinto libro dei Salmi ci sono un gruppo di Salmi che vengono chiamati i Salmi dell'Allel, che vengono cantati durante la cena pasquale. Anche Gesù con gli Apostoli, il Nuovo Testamento ci dice che prima di uscire per andare nell'orto del Gezzemani, per pregare e poi entrare nella passione al termine della cena pasquale, prima di uscire Gesù e gli Apostoli cantarono l'inno. Ecco, indica l'Allel, c'è questo gruppo dei Salmi che vanno dal Salmo 113 fino al Salmo 118. Sono proprio i Salmi della lode e della salvezza, legate proprio alla Pasqua, che è la festa della liberazione. Nel quinto libro dei Salmi si trova il Salmo 119, che è quello che vediamo questa sera, che è tutto un Salmo di lode, della forza e della potenza della parola di Dio. Poi subito dopo il Salmo 119 ci sono un altro gruppo di Salmi che vengono chiamati i Salmi dei Pellegrini, i Salmi di pellegrinaggio, oppure anche i Salmi delle Ascensioni, delle Salite, che erano quei Salmi che cantavano i Pellegrini quando si recavano a Gerusalemme per le feste. Poi c'è l'ultima parte del quinto libro dei Salmi, che vengono chiamati i Salmi delle Lodi. Nella tradizione antica della Chiesa erano dei Salmi che venivano pregati, soprattutto il 148, il 149, il 150, tutte le mattine, come lode che si innalza a Dio all'inizio del giorno, come immagine di quella lode che noi canteremo un giorno davanti a Dio, quando saremo nel suo regno, quando ci sarà il mondo nuovo che Dio stabilirà con la venuta di Gesù. Allora noi vediamo che la tematica della lode, l'atmosfera della lode, è un'atmosfera che pervade tutto il quinto libro dei Salmi. E nel cuore, nel centro di questo quinto libro dei Salmi, sta appunto il Salmo 119. Del Salmo 119 c'è un'immagine che è bellissima, che è l'immagine conclusiva di questo Salmo, un'immagine che verrà ripresa addirittura da Gesù nel Vangelo. Vi rileggo l'ultimo versetto che abbiamo ascoltato prima. Mi sono perso come pecora smarrita, cerca il tuo servo, non ho dimenticato i tuoi comandi. L'immagine della pecora smarrita è l'immagine di Dio che si mette alla ricerca del suo servo, perché il suo servo non ha dimenticato i suoi comandi, cioè non ha dimenticato le sue promesse, la sua parola, quello che Dio gli ha messo nel cuore. Ecco, questa è una delle immagini più belle di tutto il libro dei Salmi e possiamo dire anche di tutta la scrittura. Ed è un'immagine che lega questa parola proprio al Vangelo. Sappiamo, conosciamo tutti la parabola della pecorella smarrita, che è una delle parabole più belle della misericordia che Gesù ci ha regalato. E allora attraverso questa immagine noi capiamo e comprendiamo tutta la dinamica del libro dei Salmi. Perché che cos'è questo percorso, questo cammino che si snoda attraverso queste 150 preghiere, se non un lasciarsi trovare da Dio nel luogo del proprio smarrimento. È Dio che ti viene a cercare, è Dio che muove i suoi passi verso di te. Tu ti sei smarrito nella tua vita, ma Dio ti viene a scovare, ti viene a trovare, ti viene a prendere e a portare sulle sue spalle, proprio come una pecora smarrita. Mi sono perso come pecora smarrita. Cerca il tuo servo. Quanto è bella questa immagine. Ed è questa immagine che questa sera ci fa entrare in un altro testo, in un'altra parola che il Signore ci mette davanti proprio in questo tempo. Come sapete ci stiamo preparando alla Pasqua. E la Pasqua è legata ad una celebrazione particolare. Perché il cuore della Pasqua è la Veglia Pasquale. E la Veglia Pasquale è il momento più bello dell'anno. Io come sacerdote non mi perderei per nulla al mondo la Veglia Pasquale. Perché è la celebrazione più bella. E la celebrazione più bella perché va a vivere quello che è il cuore di tutta quanta la nostra fede. Perché tutta la nostra fede ruota intorno alla passione, alla morte e alla resurrezione del Signore. E la Veglia Pasquale conosce una porta. La porta che introduce nella Veglia Pasquale è il Preconio Pasquale, l'Annuncio Pasquale. L'Exultet, come viene chiamato dalla sua prima parola del testo latino. E il Preconio Pasquale è un annuncio meraviglioso di salvezza. Un annuncio meraviglioso delle liberazioni che Dio ha compiuto per il suo popolo e della liberazione definitiva che Dio ha compiuto per mezzo di Gesù suo figlio. Ecco, i salmi la Chiesa li ha sempre pregati. Non solo direttamente leggendoli nel libro delle scritture, ma anche facendoli entrare nei testi della preghiera, facendoli entrare nella meditazione della parola, facendoli entrare nella liturgia. Il cuore del Preconio Pasquale è costruito tutto intorno al verso di un salmo, che è il salmo 138, che appartiene proprio al quinto libro dei salmi. E' quel salmo che forse alcuni di voi conoscono, ma se non lo conoscete vi invito ad andarlo a cercare nella Bibbia. Inizia con queste parole, Signore tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando mi secco e quando mi alzo. E' un salmo che celebra la conoscenza profonda che Dio ha del cuore di ciascuno di noi. E anche se non utilizza proprio l'immagine della pecorella smarrita, è un salmo che riprende però la tematica di Dio che va alla ricerca dell'uomo. A un certo momento questo salmo dice, se salgo in cielo, la tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Se dico alla notte di coprirmi, di nascondermi nel buio, nelle tenebre, ecco che per te o luce o tenebre sono la stessa cosa. Ecco, proprio questa parte del salmo è il cuore su cui è edificato, il fondamento su cui è edificato il pregonio pasquale, l'annuncio della Pasqua che introduce la veglia pasquale. Ecco, questa sera vorrei proprio proporvi il testo del pregonio pasquale. Perché il testo del pregonio pasquale risponde proprio alla dinamica dei salmi, alla dinamica di questi cinque libri, al cammino che c'è dietro questi cinque libri dei salmi. Sul foglietto che riceverete vi ho messo anche il testo del pregonio pasquale. Innanzitutto vi voglio rileggere il sottotitolo che, diciamo, ho voluto dare al salmo 119, nella prima pagina. I canti della pecora smarrita, 22 passi per lasciarsi trovare da Dio. 22 passi perché, come dicevamo prima, il salmo 119 è formato da 22 strofe di 8 versi ciascuno che ripercorrono l'alfabeto ebraico. Andiamo adesso al pregonio pasquale, all'annuncio pasquale. Innanzitutto è un annuncio. Quindi, proprio perché è un annuncio, ha un qualcosa da dirci, da annunciarci, da gridare al nostro cuore. È un testo bellissimo, molto antico. Non si sa chi l'ha scritto, però le sue origini risalgono al quarto o quinto secolo dopo Cristo. Quindi stiamo parlando di 1600 anni fa. Cioè, è un testo che ha ancora dentro di sé la forza, la fede, la speranza delle prime comunità cristiane. Ed è un testo che ha uno scopo. Quello di celebrare, di introdurre la celebrazione della Pasqua attraverso un segno, che è il segno della luce, il segno del fuoco. Nei primi secoli della Chiesa ogni liturgia iniziava con un gesto, che era l'accensione delle lampade, della luce, delle candele, di quello che si aveva a disposizione per illuminare il luogo dove si pregava. Già nella tradizione ebraica questo gesto era stato circondato da preghiere, da benedizioni. Viene chiamato questo gesto, questo rito, il lucernale. C'è il rito di benedizione della luce. Il pregonio pasquale è il solenne lucernale della grande veglia di Pasqua. E apre la celebrazione della Pasqua e ci introduce all'ascolto delle letture che verranno proclamate subito dopo il canto del pregonio pasquale. Nelle letture della Pasqua c'è una particolarità, che l'ordinamento, l'ordine delle letture segue uno schema. Uno schema che era già conosciuto dai nostri padri ebrei nell'Antico Testamento. Uno schema che viene raccontato in un insegnamento che si chiama l'insegnamento delle quattro notti della salvezza. C'era un insegnamento che era già diffuso all'epoca di Gesù che diceva così che ci sono quattro notti nelle quali Dio ha operato la salvezza dell'umanità. La prima notte è la notte della creazione quando con la potenza della sua parola Dio ha illuminato il mondo con il dono della luce sia la luce e la luce fu. Cioè la parola di Dio che è parola creatrice, che è parola potente, che è parola che realizza quello che promette. La seconda notte è la notte del diluvio, il diluvio universale che è la nuova possibilità che Dio dà al mondo, la nuova possibilità di salvezza che Dio dà agli uomini. O meglio, è legata questa seconda notte del diluvio alle quattro notti della salvezza, scusate il piccolo errore, ma la seconda notte non è quella del diluvio ma è quella della legatura di Isacco. Quello che noi conosciamo come sacrificio di Isacco, quando Abramo porta Isacco sul monte per sacrificarlo a Dio e Dio ferma la mano di Abramo perché non vuole il sacrificio del figlio di Abramo, perché sarà Dio un giorno a sacrificare suo figlio per noi. Quella è la notte in cui la fede è apparsa sulla terra, quella è la notte in cui il mondo è stato illuminato dalla fede di Abramo. La seconda notte. Poi c'è la terza notte che è la notte dell'Esodo, è la notte del passaggio del Mar Rosso, è la notte di Pasqua vissuta dal popolo di Israele in Egitto, il passaggio dalla schiavitù alla libertà attraverso il Mar Rosso che rappresenta il cammino di liberazione che Dio apre davanti al suo popolo Israele. E poi dice questo insegnamento ci sarà una quarta notte che è la notte del Messia e per noi questa quarta notte si è compiuta perché è la notte della risurrezione di Cristo, è la notte della risurrezione di Gesù e ogni Pasqua è rivivere questa notte. Per questo per esempio nel pregoneo pasquale l'espressione questa notte è un'espressione che si ripete molte volte perché la notte di Pasqua è il rendere presente tutte le liberazioni, tutte le salvezze, tutte le ritenzioni che Dio ha operato lungo l'arco della storia della salvezza che sono riassunte, ricapitolate come direbbe San Paolo proprio nella risurrezione di Gesù in quella liberazione piena, definitiva che Dio ci ha offerto per mezzo di suo figlio Gesù. Ecco, il pregoneo pasquale prepara l'annuncio di queste quattro notti che poi ascolteremo nelle letture che verranno proclamate, infatti le letture ripercorrono proprio questo percorso. Si parte dalla creazione, si passa attraverso il sacrificio di Sacco, si arriva alla celebrazione della notte della Pasqua di Egitto con il canto del mare che è il canto più importante della liturgia della parola e poi le letture profetiche che seguono la lettura dell'Esodo che sono l'annuncio e la promessa della quarta notte della salvezza che poi ascolteremo con la lettura dell'Epistola e del Vangelo della Risurrezione con il canto dell'Alleluia che segna la realizzazione e la venuta di questa quarta notte della salvezza che è la notte della risurrezione di Cristo. Ma adesso andiamo al testo del pregonio pasquale. Il pregonio pasquale inizia con un invito alla lode. La prima parte del pregonio pasquale, quella prima parte che precede il dialogo che introduce il pregonio vero e proprio è l'invito alla lode che Dio ci mette davanti. Esulti il coro degli angeli, esulti l'Assemblea Celeste, un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra, inondata da così grande splendore. La luce del Re Eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore e questo Tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato, senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo Cero. Ecco, questo invito alla lode è un invito alla gioia. ed ha come soggetto di questa lode, soggetto di questa gioia, la comunità radunata intorno al segno della resurrezione, che è il Cero Pasquale, la vittoria della luce sulle tenebre, la vittoria della vita sulla morte, quel Cero che rappresenta Gesù stesso, che è la luce, come dice il prologo del Vangelo di Giovanni, venne la luce e tutto fu fatto per mezzo di lui. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta oppure non l'hanno accolta, come si può anche tradurre. Allora questa prima parte del preconio è l'invito alla gioia, alla lode intorno al Cero Pasquale, di una comunità radunata nella notte di Pasqua intorno a quel segno che rappresenta Gesù, che è il Cero Pasquale. E poi c'è l'inizio del preconio vero e proprio, che inizia come il prefazio della Messa, con quel dialogo che invita il cuore ad elevarsi a Dio, a rivolgersi a Dio. In alto i vostri cuori sono rivolti al Signore. La bellezza del preconio pasquale si esprime con maggiore forza, soprattutto quando il preconio viene cantato. ci sono alcune delle melodie che vengono utilizzate nelle nostre comunità che riescono veramente a rendere bene la forza di quest'annuncio, la forza di questa lode che il preconio pasquale è nella veglia pasquale, nell'esperienza della preghiera della Chiesa nella notte di Pasqua. Allora inizia questo prefazio, questo annuncio di lode che è il preconio pasquale, con quelle espressioni che già conosciamo perché le sentiamo ogni domenica a Messa. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente e al sonico Figlio Gesù Cristo nostro Signore. Dopo questo inizio solenne ecco che c'è il ripercorrere il cammino della salvezza che ha condotto alla notte di Pasqua, quel percorso che Dio ha tracciato lungo i secoli e le generazioni fino alla passione, morte e risurrezione di Gesù. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero Agnello che con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele e i nostri padri dalla schiavitù dell'Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei Santi. Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso. Nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. Parte questo racconto dal peccato di Adamo. Attraversa il Mar Rosso insieme ai figli di Israele guidati da Mosè presenta Gesù come il vero agnello pasquale che viene immolato per la salvezza del mondo. Non più come l'agnello della Pasqua antica che doveva segnare solo le porte dei figli di Israele ma come quel sangue che consacra tutti i figli di Dio dispersi nel mondo. C'è un'espressione molto forte nessun vantaggio per noi essere nati se Lui non ci avesse redenti. Tale è grande la salvezza che Dio ha operato per noi nella notte di Pasqua. Poi continua con una espressione di gioia di meraviglia riporta al Signore O immensità del tuo amore per noi O inestimabile segno di bontà per riscattare lo schiavo hai sacrificato il figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo che è stato distrutto con la morte di Cristo felice colpa che meritò di avere un così grande redentore. Ecco questa espressione felice colpa che meritò di avere un così grande redentore è proprio un apice nell'espressione orante della nostra fede perché questa espressione ti dice la grandezza dell'amore che Dio ha riversato su di noi per mezzo di suo figlio Gesù. Se Gesù non ci avesse salvati noi non avessi non avremmo conosciuto quest'amore e questo sarebbe per noi qualcosa di tremendo di terribile allora chi ha scritto questo annuncio dice posso dichiarare che addirittura quella colpa che ha commesso Adamo e dalla quale è venuta la necessità della salvezza che Dio ha operato per noi nel nome di Gesù suo figlio posso chiamarla felice quella colpa talmente grande è questa salvezza talmente grande è la gioia di questa liberazione di questa redenzione che Dio ha operato nella mia vita questa preghiera è il coraggio dei salmi perché i salmi sono una preghiera coraggiosa una preghiera che è il coraggio che è il coraggio di osare rivolgersi a Dio come solo una parola che abbiamo ricevuto da Dio può fare e il pregonio pasquale utilizza la stessa dinamica lo stesso coraggio nel rivolgersi a Dio con una parola che sa andare oltre il consentito perché la forza dei salmi è proprio questa la differenza tra i salmi e tante altre preghiere sta proprio nella spregiudicatezza che hanno i salmi nel rivolgersi a Dio con forza ma non è la spregiudicatezza che nasce dall'arroganza dalla superbia ma è la spregiudicatezza che nasce dall'amore è la spregiudicatezza che nasce dall'amore è il coraggio che nasce dall'amore perché solo l'amore osa solo l'amore ha il coraggio di rompere gli schemi e di andare oltre ogni limite solo l'amore ha il coraggio di bussare di entrare con forza nel cuore stesso di Dio e il pregonio pasquale partecipa a questa dinamica ha lo stesso coraggio che hanno i salmi poi guardate come continua o notte beata tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dai morti dagli inferi di questa notte è stato scritto la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia questo versetto come vi dicevo prima è un versetto del salmo 138 Signore tu mi scruti e mi conosci tutto il pregonio pasquale si fonda su questo versetto molte preghiere della chiesa hanno una parola sulla quale si appoggiano una parola di Dio sulla quale si appoggiano e quando noi preghiamo è come se dicessimo a Dio Signore io vengo davanti a te non perché me lo sto inventando ma perché tu hai detto questo e allora siccome tu l'hai detto io mi appoggio su questa tua parola mi appoggio su questa mia promessa appoggio la mia preghiera su questa parola e su questa promessa per presentarla a te perché tu lo possa accogliere perché il fondamento di quello che ti chiedo sta in quello che tu hai detto in quello che tu hai promesso quindi non puoi rifiutarlo quindi non puoi che farlo tuo ecco il pregonio pasquale ha questa logica poggia la sua lode su una parola che Dio ha detto e sulla realtà che Dio ha realizzato nella resurrezione di Gesù e tra le tante parole che aveva a disposizione nelle sacre scritture per appoggiare la sua domanda per appoggiare la sua lode sceglie proprio la parola di un salmo del salmo 138 che appartiene proprio al quinto libro dei salmi di questa notte è stato scritto la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia questo versetto è il cuore della veglia pasquale perché la notte splenderà come il giorno a motivo della resurrezione di Gesù e sarà fonte di luce per la mia delizia perché la resurrezione di Cristo ha riportato la gioia nella nostra vita la gioia nel nostro cuore poi il pregonio continua il santo mistero di questa notte sconfigge il male lava le colpe restituisce l'innocenza ai peccatori con queste espressioni indica la seconda parte della veglia pasquale subito dopo l'annuncio alla proclamazione delle letture poi c'è la liturgia battesimale perché che cos'è la liturgia battesimale nella notte di Pasqua se non attraversare il Mar Rosso a livello spirituale insieme ai figli di Israele per passare dalla schiavitù del peccato alla libertà dei figli di Dio per questo utilizza questa espressione sconfigge il male lava le colpe restituisce l'innocenza ai peccatori ecco ci muoviamo verso la fine del preconio da gioia la gioia agli afflitti dissipa l'odio piega la durezza dei potenti promuove la concordia e la pace o notte veramente gloriosa che ricongiunge la terra al cielo l'uomo al suo creatore in questa notte di grazie accogli Padre Santo il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri nella solenne liturgia del Cero frutto del lavoro delle api simbolo della nuova luce riconosciamo nella colonna dell'esodo gli antichi presaggi di questo lume pasquale che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio pur diviso in tante fiammelle non estingue il suo vivo splendore ma si accresce nel consumarsi della cera che la pe madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada ti preghiamo dunque Signore che questo Cero offerto in onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne salga a te come profumo soave si confonda con le stelle del cielo lo trovi acceso la stella del mattino quella stella che non conosce tramonto Cristo tuo figlio che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli amene ecco quest'annuncio pasquale questo pregonio è veramente una lode meravigliosa che come dicevamo prima appoggiandosi proprio sul versetto di un salmo ci fa avvolgere il nostro cuore a Dio e ci fa accogliere l'annuncio della sua risurrezione della risurrezione di suo figlio Gesù allora nel percorso nel cammino dei cinque libri dei salmi possiamo dire che il pregonio pasquale riassume la dinamica che abbiamo affrontato in questo cammino questo non è l'ultimo incontro perché ci vedremo ancora un'altra volta per tirare le somme di tutto quello che noi abbiamo detto in questi incontri però già da adesso vediamo come questo percorso attraverso il libro dei salmi è un percorso che ci ha aiutato ad edificare a costruire con il Signore un rapporto diverso perché noi non dobbiamo mai dimenticarci una cosa che Dio prima di essere un concetto prima di essere un'idea prima di essere un insegnamento una dottrina quello che vogliamo noi è una persona e il libro dei salmi è il nostro dialogo con questa persona la Chiesa ha fatto suo il libro dei salmi come vi dicevo prima non soltanto leggendolo così come si trova nella scrittura ma facendolo entrare nelle preghiere come abbiamo visto adesso nel pregonio pasquale facendolo entrare in tutta la sua spiritualità facendolo entrare nella teologia nella liturgia in tutte le sue espressioni viventi concrete reali questo perché perché è del rapporto con una persona vive e concreta che noi stiamo parlando e la Chiesa ha sempre davanti a sé questo rapporto da costruire ed edificare tra noi e Dio allora lasciamo che questi salmi queste 150 preghiere ci aiutino a fare l'esperienza che ha fatto un giorno Giacobbe Giacobbe nella scrittura è un'immagine bellissima del cammino della fede e Giacobbe tra le tante cose che vive con Dio ne vive uno in particolare quando deve ritornare nella sua terra e deve affrontare suo fratello quel fratello al quale aveva rubato la prima genitura con l'inganno anche se aiutato dalla madre e durante la notte lui deve attraversare un guado e attraversando quel guado incontra Dio e combatte con Dio per tutta la notte fino a quando alla fine della notte quando sorge il sole che da inizio al nuovo giorno riesce in un certo senso a conquistare una benedizione e un nome nuovo da parte di Dio perché da quella notte in poi Giacobbe non si chiamerà più solo Giacobbe ma Israele colui che ha lottato con Dio il nome che poi passerà al suo popolo il nome che poi passerà a tutta la sua discendenza ecco il libro dei salmi sono il nostro fare appugni con Dio il nostro scendere nel guado insieme a Lui perché la preghiera è combattimento la preghiera è affrontare Dio non come un nemico che combatte contro un altro nemico ma come un fratello che combatte con un fratello come un amico che affronta un amico e il libro dei salmi è questa esperienza che ci fa fare di Dio il libro dei salmi ci fa scendere nel guado dello Iappoc che è il nome del guado che ha dovuto attraversare Giacobbe dove ha combattuto con Dio per affrontare Dio per rapire anche noi la sua benedizione per ricevere anche noi da lui un nome nuovo una nuova identità una nuova missione un nuovo scopo per la nostra vita vi invito non soltanto ad ascoltare queste poche cose che io vi sto dicendo perché è davvero niente quello che io vi sto dicendo rispetto alla realtà della parola di Dio e del libro dei salmi in particolare ma vi invito veramente a prendere in mano il libro dei salmi a iniziare a leggerlo uno dice ma tante cose non le capisco non fa niente non è detto che le devi capire tante cose ci sono delle cose nella vita che sono talmente belle anche quando non le comprendiamo se tu guardi non lo so la Mona Lisa di Leonardo tu la contempli vedi un'opera d'arte riesci a godere di quella d'opera d'arte anche se non riesci a capire tante cose anche se non riesci a capire tutti i particolari tutti i significati che ci possono essere dietro però la contempli e diventa tua e ti dà gioia ti dà forza ti dice qualcosa forse non tutto ma qualcosa te lo dice e con la stessa cosa sono i salmi prendi e leggi capirai forse una cosa su cento però forse quella cosa su cento è quella che serviva veramente a te è quella cosa che veramente era utile per la tua vita forse proprio quella cosa là quell'unica cosa che tu capirai sarà quella parola che Dio voleva dirti per aiutarti per liberarti per salvarti per farti risalire dall'abisso non importa quello che tu capisci leggendo i salmi ciò che importa è l'abisso che ti si apre dentro il cuore è la porta che quei salmi aprono dentro di te perché tu possa trovare Dio c'è un'immagine molto bella sempre nel quinto libro dei salmi il salmo 130 che utilizza proprio l'immagine dell'abisso dice dal profondo a te grido Signore Signore ascolta la mia preghiera dal profondo c'è dalla profondità dal fondo della mia vita nel quale sono cascato io grido a te ecco se vi posso dare un consiglio procuratevi un libretto dei salmi oppure prendete la Bibbia cercate i salmi dentro la Bibbia ma esistono anche libretti che si possono trovare facilmente anche in rete dove si trovano solo i salmi prendete e leggete fate voi stessi l'esperienza di accostarvi alla parola di Dio e di vedere che cosa muove in voi e di vedere come vi guida come vi accompagna perché il primo maestro del nostro cuore è lo Spirito Santo è il primo padre spirituale è lo Spirito Santo è lo Spirito Santo che ci guida e allora lasciamolo lavorare in noi prendi il libro dei salmi e inizi a leggerlo al di là di quello che tu comprendi non fa niente se non ci capisci niente l'importante è che i salmi capiscano te e diano voce alla tua preghiera perché forse vorresti rivolgere una preghiera a Dio ma non riesci a trovare le parole per farlo e quei salmi ti danno le parole giuste da poter rivolgere a Dio perché nei salmi non ci sei tu che cerchi Dio ma c'è Dio che cerca te come pecora smarrita vado errando cerca il tuo servo perché non ho dimenticato i tuoi comandi quei comandi che non hai dimenticato sono i salmi e siccome non li hai dimenticati perché li stai leggendo ecco che allora Dio viene in cerca di te non sei tu che devi trovare Dio è Dio che vuole trovare te quando noi dobbiamo lasciarci trovare da qualcuno la prima cosa che dobbiamo fare è smetterla di muoverci perché se noi ci muoviamo non ci potrà trovare chi ci cerca ma se noi ci fermiamo in un posto chi ci cerca ci può raggiungere allora fermati prendi il libro dei salmi e lasciati raggiungere da Dio e lasciati trovare da Lui lascia che Lui ti venga a cercare e che ti tiri fuori dal luogo del tuo nascondimento dai quei nascondigli che hai costruito nella tua vita perché avevi paura di vivere lascia che Dio ti scovi ti faccia uscire fuori e ti dia la vera gioia allora ci vediamo la prossima volta sempre con il libro dei salmi la prossima volta vedremo un salmo particolare essendo che ci vedremo a maggio vedremo quel salmo che ci ha lasciato la Bieta Vergine Maria il Magnificat che è la degna è la più bella conclusione di questo percorso che noi stiamo facendo proprio attraverso il libro dei salmi vi ripeto prendetevi i salmi e leggeteli non vi accontentate di quelle cose poche e dette male che vi ho detto io ma fate voi stessi l'esperienza della preghiera dei salmi fate voi stessi l'esperienza della parola di Dio vi lascio la benedizione e ci vediamo la prossima volta il Signore sia con voi e con il tuo spirito il Signore ti benedica e ti custodisca Amen il Signore rivolga su di te il suo sguardo e ti usi misericordia Amen il Signore faccia brillare su di te il suo volto e ti dia la pace Amen e la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre Amen ci vediamo la prossima volta e che il Signore possa veramente farvi fare una Pasqua di resurrezione a tutti quanti voi che il Signore vi dia la grazia di risorgere insieme a Lui quindi anche se ancora manca un po' di tempo per Pasqua però siamo già nel cuore della Quaresima vi auguro veramente una Santa Pasqua che possiate fare Pasqua che possiate vivere anche voi questo passaggio della resurrezione di Cristo questo passaggio dalla morte alla vita dalla tristezza alla gioia e che il Signore in questi tempi ci dia la grazia di vivere questo passaggio anche a livello più vasto stiamo vivendo momenti abbastanza tesi abbastanza difficili come sappiamo tutti quanti tra guerre problemi di tutti i tipi ecco che il Signore possa veramente farci risorgere tutti quanti nella vera gioia nella luce della Pasqua nella luce e nella gloria della risurrezione di Gesù buona serata a tutti quanti voi ci vediamo la prossima volta grazie